Devo ammettere che mi fa un po' strano questa luna che ci accompagnerà dal 5 all'11 di giugno perché la luna piena è nel sagittario, un post che ho fatto sulla pagina dei Facebook nel quale dicevo di lavorare sulla manifestazione di ciò che vogliamo cioè potremmo veramente vedere concretizzare qualcosa che apparentemente sembra difficile nella nostra vita in modo accessibile, fruibile, quasi immediato e quindi vedere ora comparire anche la luna come carta della settimana è una di quelle cose che fa una certa impressione ad ogni modo la luna nella settimana ventura ci invita a lavorare sulle energie della paura sulle energie dell'ansia, sulle energie delle illusioni ovviamente le illusioni non necessariamente come quelle rappresentate da altre carte per esempio il diavolo che possono essere delle illusioni depistanti forse quelle della luna hanno a che fare con l'essere depotenziante, illusioni depotenzianti per lavorare in armonia con questa carta dobbiamo vedere quelli che sono considerati gli aspetti in ombra e allora è opportuno lavorare sulle emozioni più cupe della nostra vita ecco, immettere delle energie più solari, più estroverse, più distese sarà un'esperienza liberatoria e trasformativa soprattutto se provieni da un periodo già cupo di suo oppure da uno di quei momenti dove non ti senti capito ti senti come se stessi lottando contro tutti e contro tutto perché effettivamente nessuno è in grado di capirti fino in fondo ora ricordati che quando questo è lo stato mentale probabilmente c'è qualcosa che non va ma non va in te perché no, non è che anche io ce l'ho con te è un dato di fatto cerca semplicemente di appianare i toni di cercare anche di capire perché l'altra persona che può essere un partner, può essere un collega può essere il datore di lavoro ti sta dicendo quello che ti sta dicendo il che non significa necessariamente entrare in un discorso simpatico ma almeno empatico empatia sempre sana perché l'empatia è comunque un'emozione se dovesse essere acquita va a sfruttare la parte ombra della luna invece noi dobbiamo evitarlo quindi l'empatia, la giusta forma di empatia che ti permette di capire l'altra persona e trasformare quel litigio in qualcosa di più arricchente questo può significare anche il fatto che puoi a tutti gli effetti fermare quel rapporto quindi non è detto che il capire l'altra persona ti debba portare a un arricchimento può essere anche una comprensione che oh, non c'è niente da fare quando ti vedi con l'altra persona ti scanni e quindi va bene anche così ora, la luna ci invita a dare energia a tutti quegli aspetti della nostra vita della nostra esistenza che se lavori con i tarocchi mi auguro che già gli dà importanza ovvero quelle energie sottili l'intuito, l'esteriorizzazione dell'inconscio l'arrivo di messaggi extraordinari in forme extraordinarie uno dei modi più semplici che puoi utilizzare in tal senso è lavorare con i tuoi sogni magari avere il tuo diario dei sogni quindi la mattina appena sveglio scrivi immediatamente ciò che hai sognato qualora decidessi di farlo mi raccomando non dopo 5 minuti non dopo la colazione non dopo la corsetta mattutina ma appena sveglio questo perché dopo 2 o 3 minuti già inizi a perdere dei pezzi rispetto a ciò che hai sognato e quindi il tuo scritto non sarà più valido ora, scrivere i tuoi sogni ti permette di avere un ancoraggio con il tuo inconscio o per meglio dire puoi esteriorizzare l'inconscio potresti non capire immediatamente l'importanza di ciò che hai scritto ma appunto lo hai scritto quindi nel giorno ci puoi tornare più volte per vedere se ciò che hai prodotto in qualche modo ti permette di capire dei blocchi o delle energie che non stanno andando da un punto di vista diverso e quindi sicuramente arricchente come posso fare maggiore chiarezza sul mio progetto è il quesito sul quale dobbiamo lavorare per questa settimana allora progetto che cosa intendo intendo qualsiasi cosa tu stai facendo progetto può essere anche come posso fare chiarezza su un'idea su un'emozione su qualcosa che non sta andando quindi già se vuoi personalizzare la domanda cambia progetto con tutto ciò su cui magari devi fare chiarezza e ricordati che la chiarezza di cui parlo non è la chiarezza dell'eremita l'eremita cerca di fare chiarezza con l'esperienza la luna richiama un lavoro più intuitivo più magico quindi come posso fare maggiore chiarezza intendo sfruttando doti come l'esteriorizzazione dell'inconscio o l'intuito detto questo buon lunedì buon inizio settimana ci vediamo sempre qui domani anch'io farò questo tiraggio per cercare di supportare questa carta ciao 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 ciao